Buonasera, eccoci qua con questa diretta. Abbiamo detto di parlare dei grandi iniziati. Mi è stata fatta questa richiesta da parte di Focus perché questi amici di Focus hanno presente un mio libro di qualche anno fa che si chiama I grandi iniziati del nostro tempo. Ce l'ho qua, che è un libro delle edizioni mediterranee dove ho raccolto una quindicina di ritratti di quelli che ho chiamato i maestri del cammino interiore. L'ho chiamato I grandi iniziati del nostro tempo perché molti anni fa, più di un secolo fa, era stato pubblicato un libro a firma di Edouard Churet che è un famoso studioso e esoterista francese che si chiamava I grandi iniziati. Un libro che è stato famosissimo e che raccontava i grandi maestri dell'umanità a partire da Krishna, poi Mosè e Zoroastro fino ad arrivare al Cristo che è l'ultimo grande iniziato del quale lui parla. Allora io mi sono ispirata a questo, naturalmente non per fare una sua imitazione perché non ho certamente parlato degli iniziati suoi che hanno veramente aperto tanti orizzonti al pubblico di anni, tanti anni fa. Però ho raccontato a questi personaggi che al giorno d'oggi, in tempi molto più vicini a noi, il più vicino, siamo più lontano, anzi diciamo, del Settecento e ve ne parlerò oggi, hanno aperto degli orizzonti diversi, cioè hanno indicato strade che non tutti conoscano e orizzonti che non sono a disposizione di tutti. E quindi hanno aperto veramente delle strade di conoscenza straordinarie. Il primo di cui vi volevo parlare è Emanuel Swedenborg, che è vissuto nel Settecento, ha avuto una vita piuttosto lunga, per l'epoca lunghissima, cioè 84 anni, e vi racconto un po' la vita di questo personaggio. Poi se ci sono domande io le vedo e quindi posso rispondere. Emanuel Swedenborg è nato alla fine del Seicento in Svezia, a Stoccolma, in una famiglia prestigiosa per l'epoca, una famiglia, il papà era un pastore, ebbe otto figli, due mogli, lui era il terzo figlio, e nella famiglia loro, nella famiglia degli Swedenborg, si tramandavano due attività, quella di pastore e quella di scienziato, diciamo, come scienziato che si occupava delle miniere. All'epoca in Svezia, quello delle miniere era il cespite di guadagno più importante, quindi avevano queste due tradizioni familiari. Il nostro Emanuel le ereditò in pratica tutte e due. L'interesse, che fu soprattutto giovanile per la teologia, in seguito ebbe un altro tipo di spiritualità, e quello per le miniere, perché poi, per conto del re di Svezia, per moltissimi anni, fu sovrintendente alle miniere, quindi un incarico veramente prestigioso. Swedenborg, lo dico fin d'ora per chi si è messo ora in ascolto, è famosissimo per le sue visioni dell'aldilà. Il suo libro più famoso, che io ho tradotto in italiano, e che ha avuto traduzioni, decine di traduzioni in tutte le lingue, si chiama Cielo Inferno. Eccolo qua, Cielo Inferno, di Emanuel Swedenborg, perché questo è edito dalle mediterranee, io l'ho tradotto qualche anno fa, e sì, sotto titoli, è descritto da un grande leggente, ed è stato il primo che ha raccontato un po' come potrebbe essere l'aldilà, e quello che a me è sorpreso nel occuparmi di questo libro è stata la somiglianza tra le visioni che Swedenborg descrisse tanti anni fa, due secoli e mezzo fa, e quello che dicono oggi i morenti. Cioè le persone che sono state in punto di morte raccontano questo inizio di ingresso, diciamo così, nel mondo dell'aldilà, in termini che sono molto simili a quelli che Swedenborg ha raccontato. Swedenborg però non è mai stato in punto di morte, Swedenborg aveva delle visioni. Ha avuto una vita molto singolare, molto interessante, io adesso la devo riassumere per sommi capi, perché naturalmente sarebbe una vita lunga e piena di vicende interessanti, a contatto con i sovrani di Svezia, con i rubiti, un po' di tutto il mondo, allora raggiungibile. Swedenborg studiò, ebbe naturalmente, ho detto, figlio di un pastore che poi fu anche vescovo, fu vescovo a Stoccolma e collaborò con il re di Svezia per programmi scolastici, insomma un grosso personaggio il padre. E quindi lui crebbe in un ambiente colto, imparò molte lingue, si esprimevano allora scrivendo nel latino, che era la lingua, era l'inglese di oggi, era la lingua internazionale dell'epoca, anche cielo inferno è stato scritto in latino. Io avevo, per tradurlo in italiano, avevo le traduzioni in tedesco, in inglese, in francese, e mi sono servita di questo, più del mio vecchio latino, che non lo ricordo più tanto bene. E quindi lui ebbe questa grande cultura e dimostrò sempre, oltre che un interesse per la teologia, che gli veniva dal padre, per la spiritualità, anche un grande interesse per la scienza. E lui aveva un cognato che era un famoso dotto dell'epoca, dotto nel senso di scienziato dell'epoca, che lo indirizzò molto, era più grande di lui di parecchi anni, e lo indirizzò molto in questo senso, gli fece frequentare ambienti interessanti, lo avviò verso, appunto, tutte le discipline scientifiche. All'epoca poi erano dei tutologi, diciamo, che non è che uno dice io faccio astrologia, astronomia, mi occupo di questo. Lui si è occupato di tutte le scienze, praticamente, come era buon costume allora. E oltre che delle scienze, lui si occupò anche delle tecniche, cosa che all'epoca non era assolutamente usuale, lui ebbe questa intuizione e fece infatti anche molte scoperte. Andando però per ordine, possiamo dire che lui frequentò tutte le scuole possibili, le più colte, le più qualificate, e quando ebbe 20-22 anni desiderò andare in Inghilterra. L'Inghilterra era allora il paese dove le scienze, le tecniche erano maggiormente sviluppate. C'erano i più grandi scienziati dell'epoca che vivevano in Inghilterra e lui chiese, ottenne finalmente dal padre il permesso di recarsi in Inghilterra a studiare. E quindi passò 5 anni in Inghilterra, poi prima di tornare in Svezia andò anche in Olanda dove imparò a relegare i libri, imparò a molare le lenti, imparò a fare un'infinità di cose e tornò da questi 5 anni, e no, anche a Parigi, rimase un anno anche a Parigi, e tornò da questo lungo soggiorno all'estero ricco di cultura, ricco di informazioni, di cognizioni, di tecniche, di scienza, fu veramente un pozzo di scienza, perché aveva un'intelligenza straordinaria. Fu appena, tornò che aveva 27 anni e fu notato immediatamente dal re di Svezia che era allora il celeberrimo Carlo XII che era un sovrano illuminato che purtroppo morì in battaglia molto presto, ma che rimase ammirato dal genio di questo giovane il quale inventò per lui un sacco di cose, addirittura inventò, per dire una delle cose più semplici, che però per allora era molto difficile, un tessuto cerato che non accoglieva l'acqua con il quale il sovrano poteva tranquillamente andare a caccia anche quando pioveva perché non si sarebbe bagnato. E poi inventò punti levatoi, inventò pompe, strumenti per la migliore estrazione dei metalli dalle miniere, addirittura lui inventò un aeroplano, la prima macchina a mob volante, che fece un modellino e questa macchina volante molti anni dopo, cioè nel Novecento, fu realizzata negli Stati Uniti e costruita a grandezza naturale era lunga una quindicina di metri, fu realizzata e questa macchina volante secondo i principi di Svedelbo si alzò in volo e volò per un quarto d'ora, poi cadde. Però studiandole capirono gli scienziati odierni, moderni, che Svedelbo in realtà aveva intuito correttamente i primi rudimenti della navigazione aerea. Questo modello di Svedelbo è ancora esposto al Museo Americano della navigazione aerea, quindi una cosa importante. Quindi Svedelbo comincia a questa età di 27 anni e poi per altri 30, più 29 per l'esattezza, una vita in Svezia di cultura, di scienza, di onori, di ammirazione e di vicinanza con la famiglia reale. Viene nominata assessore straordinario alle miniere, quindi è uno degli incarichi più prestigiosi della Svezia perché, come ho detto prima, il cespite maggiore di guadagno della Svezia erano appunto le miniere. E quindi lui fa questa vita per tanti anni, onorato, stimato, non si sposò mai perché disse di aver avuto una delusione giovanile e quindi aveva giurato che mai più avrebbe avvicinato una donna a scopo matrimoniale però fu un uomo estremamente socievole che aveva tanti amici, inviti a cena, invitava a sua volta a casa sua, una bellissima vita di signore colto e apprezzato e ammirato. Crisse già allora tantissimi libri su tutte le scienze possibili partendo dall'astronomia alla metallurgia alla botanica, veramente sapeva di tutto e poi parlò del corpo umano, raccontò come era fatto il corpo umano e piano piano dagli aspetti fisici arrivò a quelli psicologici, la psicologia ancora non esisteva come scienza a sé però lui cominciò a lambire anche a questi aspetti e alla spiritualità, allo studio del cervello, allo studio della mente dell'uomo e fu, aveva 56 anni, nel momento in cui cominciò a occuparsi di questi temi nel frattempo aveva un po' abbandonato le pratiche religiose di quando era ragazzino, si era dedicato completamente alla scienza però mentre stava occupandosi di questi temi cominciò a manifestarsi in lui un certo aspetto molto molto particolare e cioè cominciò a fare dei sogni cominciò a fare dei sogni che gli fornivano le spiegazioni che cercava in campo psicologico e spirituale e poi ebbe delle visioni con un processo molto lungo che lui ha raccontato in un libro che si chiama Il giornale dei sogni che è stato trovato molti anni dopo la sua morte e piano piano lui da scienziato piano piano non tanto piano piano in tempi abbastanza rapidi si trasformò da scienziato in veggente che attraverso i sogni gli arrivavano queste informazioni e queste intuizioni che lui accolse lui le accettò con grandissima disponibilità e si vede che questa era veramente la sua strada perché si trovò di colpo e immesso in un sentiero spirituale per il quale evidentemente tutto quello che aveva studiato prima era stata la giusta e doverosa preparazione quindi lui si trovò da scienziato ad essere un veggente che aveva delle visualizzazioni di una precisione assoluta e straordinaria e vi racconto qualche esempio qualche esempio che ha avuto fra l'altro delle riconferme straordinarie perché pensate che Swedenborg era quasi contemporaneo di Kant Kant è vissuto pochi anni dopo di lui il famoso Immanuel Kant filosofo rigorosissimo Swedenborg era intanto per queste sue veggenze di cui poi dirò alcune cose è diventato famoso in tutta l'Europa colta dell'epoca e anche Kant era molto incuriosito di lui perché ne sentiva parlare molto bene come persona come scienziato come ricercatore io adesso chiedo scusa un attimo che mi si sta scaricando il volevo libro devo collegare a un filo però continuiamo la nostra la nostra chiacchierata tranquillamente ecco mi vedete mi vedete ancora ci vediamo spero di sì devo tenerlo stretto perché se no non sta collegato il filo ma insomma spero che vada comunque tutto bene allora lui Kant si informò su di lui e venne a conoscenza di una serie di testimonianze di fenomeni che lui aveva vissuto e che erano straordinari ve ne racconto alcuni molto ben testimoniati anche perché lui faceva parte di un pubblico colto che testimoniava in maniera autorevole sulle sue sulle sue cose allora tra le veggenze famosissime che lui ha fatto ci fu quella della morte violenta dello zar di Russia Paolo III che era stato poi il marito il primo marito marito della grande Caterina di Russia e Paolo III era un pazzo e fu a un certo punto strangolato in carcere non si sa con quale contributo della moglie allora giovanissima oppure no oppure se soltanto il gruppo che non lo voleva più comunque Svedenborg si trovava in compagnia di amici quando a un certo punto risultò assorto come in una in una visione terribile e quando si riprese da questa visione disse agli amici in questo momento lo zar Paolo III è stato strangolato in carcere stupore generale naturalmente all'epoca siamo nel Settecento non c'erano telefonini eccetera la conferma arrivò alcuni giorni dopo attraverso le gazzette attraverso le staffette che portarono questa notizia il fatto era avvenuto nella stessa maniera in cui lui l'aveva descritto nella stessa ora dello stesso giorno nella prigione appunto dove era stato tenuto prigioniero un altro evento sempre che poi di cui anche Kant fu testimone in qualche modo e lo confermò è quello dell'incegno di Stoccolma dunque Svedemann viveva a Stoccolma in quel momento però lui si trovava lui viaggiò sempre moltissimo si trovava a Gothenburg una città molto importante che si trovava a quattro ore a quattro ore di viaggio oggi allora erano molto molto più lunghe naturalmente oggi sarebbero quattro ore e si trovava in una grande compagnia di persone che stavano c'era un ricevimento e a un certo punto anche lì lui si trovò completamente assorto lo vede preoccupatissimo assorto entrava usciva dalla stanza andava in giardino che cosa era successo lui assistette all'incegno di Stoccolma in quel giorno Stoccolma fu bruciata in grandissima parla le case erano quasi tutte di legno fu bruciata quasi interamente da un incendio devastante e lui per alcune ore seguì questo incendio dicendo come proseguiva i tentativi inutili a lungo di spegnerlo fino a che disse l'incendio sta andando verso la mia casa preoccupatissimo naturalmente molto più preoccupato del solito in questa occasione poi con suo lievo disse l'incendio è stato fermato tre case prima della mia quindi la sua casa fu risparmiata naturalmente non c'era modo per lì di controllare questo fatto però dopo un giorno o due arrivò una staffetta mandata da mandata da Stoccolma che confermò ogni cosa persino anche la traiettoria dell'incendio e questo fatto ebbe una rilevanza cittadina e poi nazionale perché tra i convitati quel giorno c'era anche il borgomasso della città il quale confermò tutto quindi un altro fatto assolutamente confermato che poi Kant fece fece interrogare tutti i protagonisti che all'epoca della sua controllo erano ancora tutti al mondo e quindi ebbe questa conferma e poi quindi aveva questa dote di veggenza essere un veggente vuol dire vedere cose lontane come in questo caso lui ha visto sia lo strangolamento dello zar sia l'incendio questi sono due esempi fra i tanti che si potrebbero fare e li cito perché convalidati appunto dalla testimonianza del filosofo Kant e poi sempre confermato da Kant che racconta questo episodio come autentico Swedenborg aveva la capacità rarissima di vedere e di parlare con i defunti era una delle doti che gli erano sopravvenute dopo che in lui era venuta questa metamorfosi praticamente da scienziato a ricercatore spirituale mistico possiamo anche dire e anche di questa di queste visioni dei defunti che gli dicevano delle cose precise ci sono testimonianze se racconto un caso questo è avvenuto a Stoccolma nell'alta società che Swedenborg era solito frequentare si sapeva di questa sua dote fra l'altro apre una parentesi lui non perse la considerazione di nessuno per questa sua metamorfosi continuò a frequentare l'alta società rinunciò al discorso delle miniere perché non aveva più tempo di occuparsi di questo però lui rimase in contatto con la corte rimase in contatto con l'altra società con tutti quelli scienziati ricercatori perché conservò da veggenti diciamo così la stessa stima di cui aveva voluto da scienziato allora un episodio appunto anche questo convalidato da Kant è il seguente che una signora una nobile signora la duchessa di Martville mi pare che si chiamasse consultò Swedenborg perché era successo questo lei era morto era morto suo marito da poco e un un argentiere di Stoccolma gli aveva chiesto il pagamento di un servizio d'argento prestigioso e costosissimo che il marito aveva ordinato lei era sicura che il marito avesse saldato il conto ma non riusciva a trovare la ricevuta e l'argentiere insisteva che il conto non era stato pagato quindi situazione molto importante anche perché era un costo molto alto quindi lei si rivolse a Swedenborg era abbastanza normale rivolgersi a lui per cose di questo genere e gli chiese se poteva con tutta tranquillità se poteva contattare il marito defunto per chiedergli dove mai avesse messo la ricevuta che lei non era riuscita a trovare in tutta la casa e Swedenborg disse che sì che l'avrebbe fatto e si allontanò e dopo un giorno o due si recò dalla questa signora de Martville che in quel momento aveva ospiti per il caffè e le disse che aveva incontrato il marito e quale le aveva detto dove aveva nascosto la ricevuta e cioè in un mobile che si trovava al piano di sopra in una certa stanza e lei disse ma questo mobile l'abbiamo sconvolto vuotato da capo a fondo non abbiamo trovato niente e lui disse no tuo marito mi ha rivelato un segreto sapete quei nascondigli poche volte basta premere un bottone una pulsante da qualche parte e scappano e lei ignorava di questo nascondiglio di questo segreto andarono insieme con i signori che erano presenti lì ospiti suoi per il caffè andarono insieme nel piano di sopra dove c'era questo mobile Svedembo trovò il pulsante fu aperto il cassetto e fu trovato la ricevuta e così l'argentiere fu sbugiardato perché aveva tentato di imbrogliare questa signora ecco di episodi come questo nella vita di Svedembo se ne potrebbero raccontare moltissimi e allora una domanda che ci si può fare è questa Svedembo nei suoi libri di cui ora parleremo ha scritto un'infinità di cose con riferimento all'oltre all'aldilà alla vita dopo dopo la morte ai mondi spirituali a come si vive negli altri mondi al cielo e all'inferno questo libro il più famoso suo si chiama si chiama cielo e inferno infatti allora se lui era un veggente così attendibile dal punto di vista pratico e concreto come gli episodi ora narrati dimostrano possiamo considerare che siano attendibili anche le visioni che lui ha descritto nei suoi libri ecco questo è qualche cosa che ognuno deve decidere per conto suo e bisogna questi libri bisognerebbe leggerli perché veramente sono sono straordinari e il libro grande libro il più grande libro che lui ha scritto che è un libro in molti volumi spiega il significato nascosto dei Vangeli cioè il significato esoterico dei Vangeli però io qui in questa occasione ed è anche quello che conosco meglio vi volevo dire qualche cosa di questo cielo e inferno che è il suo libro più famoso e che è stato chiamato anche il libro cristiano dei morti sapete il libro tibetano dei morti questo famoso libro in cui chi segue il chi segue la filosofia tibetana buddista segue l'accompagnamento ai defunti cosa succede dopo eccetera eccetera e questo è chiamato il libro cristiano dei morti perché dà una visione dell'aldilà in base alla nostra religione cristiana insomma lui era protestante o cattolico insomma più o meno condividiamo tanti concetti con riferimento all'oltre allora e questo questo libro gli fu dettato e qua bisogna dire qualcosa anche di come lui scriveva lui non andava in trance ero certamente un medium che aveva un contatto con l'oltre abbiamo visto che parlava con l'entità dei defunti eccetera era certamente un medium ma non andava in trance non aveva bisogno del buio lui scriveva si concentrava su un problema e scriveva quando doveva scrivere se doveva vedere l'entità le vedeva e parlava se no quando doveva scrivere quando dovevano dargli questi insegnamenti si concentrava e scriveva con una sorta di scrittura automatica io non so se tutti sanno che cos'è la scrittura automatica che è praticata anche adesso sono varie persone che la praticano qualcuno si ritrova a scrivere automaticamente senza averlo desiderato conosco tanti casi anche di questo tipo e comunque nella scrittura automatica in pratica la mano si muove da sola senza che la persona sia consapevole di quello che viene scritto a un certo punto da ferma la mano con la penna in mano comincia a muoversi a volte scrive con tanta velocità che chi scrive non riesce neanche a capire cosa sta scrivendo soltanto quando ha finito si legge si rende conto di quello che ha scritto caratteristica frequente degli automatismi di queste scritture automatiche è che le parole sono una attaccata all'altra non c'è soluzione di continuità neanche quando si va a capo quindi a volte sono un po' difficili da leggere insomma ci sono varie modalità comunque la modalità di base di tutti è la indipendenza della scrittura automatica dal pensiero della persona che sta scrivendo c'è chi interpreta la scrittura automatica come questo è un termine tecnico moderno canale montante dell'inconscio cioè attraverso questa scrittura verrebbe fuori ciò che abbiamo dentro e che normalmente non riusciamo ad esprimere e c'è chi invece questa è un'interpretazione psicologica più accreditata tra gli scienziati perché è logico che uno scienziato fa un po' fatica ad accettare il discorso della mano che viene guidata da qualcun altro ecco questo è chiaro lo scienziato deve è doveroso che fino all'ultimo cerchi un'interpretazione logica e razionale a quello che avviene altrimenti l'altra interpretazione la prima che viene in mente la più facile la più logica è quella che qualcuno scriva attraverso di te alcuni mi hanno detto addirittura adesso non sto parlando di Svedel non sto a parlare del fenomeno della scrittura automatica in generale alcuni mi hanno detto ho come la sensazione che qualcuno infili la mia mano come un guanto e che poi l'autolizzi per scrivere o a volte anche per dipingere per disegnare molte volte anche in questo modo quello che vuole non quello che voglio io che sempre fare io ecco spesse volte i contenuti di queste scritture sono ben superiori alla cultura della persona che scrive e quindi difficilmente attribuibili alla persona quindi bisogna guardare i contenuti se i contenuti sono molto semplici a volte banali eccetera allora sì si può dire che sono i canali montanti dell'inconscio cioè che tiriamo fuori con questo mezzo quello che normalmente non riusciremo a scrivere magari lo scriviamo un po' meglio dando un ordine e così via mentre se i contenuti superano nettamente vanno al di là della cultura della persona o addirittura raccontano vicende o rivelano fatti che la persona non conosce allora si può pensare a qualche cosa di diverso ma insomma io non voglio fermarmi troppo sull'interpretazione perché il discorso interpretativo è sempre molto personale e individuale voglio raccontare appunto Svendeborn come faceva lui scriveva appunto in questo modo praticamente inconsapevole e in questo modo gli vennero dettate tante informazioni su sull'oltre e com'è questo oltre di di Svendeborg e Svendeborg scrive che quando l'uomo muore poi mi piacerebbe se trovo i punti di leggere qualche qualche frase quando l'uomo muore lascia il corpo e questo è una verità che tutte le religioni affermano ma lui aggiunge anche che l'uomo l'essere umano non è il corpo il vero essere umano è quel quid che lascia il corpo quando si separa quindi la nostra identificazione col corpo fisico andrebbe un po' rivista perché il corpo è semplicemente lo strumento col quale noi ci muoviamo sulla terra per fare l'esperienza della vita terrena ne abbiamo bisogno assolutamente però la nostra vera entità è la parte spirituale la parte spirituale quando l'uomo muore si trova in un ambiente che lui definisce di passaggio non viene destinato immediatamente o al cielo o all'inferno usiamo questi termini poi magari diremo meglio ma viene collocato in una zona di passaggio dove c'è una rivisitazione di quello che è avvenuto durante la vita terrena e spesso e volentieri l'incontro con persone care morte precedentemente in questa zona di passaggio l'anima umana e lo spirito umano resta esattamente quello che era sulla terra e parlo sempre della visione di Swedenborg resta esattamente quello che era sulla terra non diventa né migliore né peggiore ma l'assoluta libertà di muoversi come crede come vuole e questa è la grande novità la grande cosa nuova soprattutto con riferimento ai tempi dove si era ancora molto legati a delle visioni strettamente teologiche eccetera c'è questa grande novità di lasciare all'essere umano all'individuo insomma all'anima la totale libertà di fare le sue scelte come le ha avute in vita così le avrà dopo questa libertà e quindi la libertà all'animo umana di dirigersi volontariamente o verso il bene o verso il mancanza di bene o verso il male e questa libertà la può esercitare con tanta maggiore competenza in quanto che liberatosi dal corpo liberatosi dalle vicende terrene può fare una valutazione migliore della situazione non è più legato a interessi terreni egoismi eccetera eccetera quindi la scelta verso il bene o verso il male viene effettuata secondo la visione di Svedebol con una competenza molto molto maggiore ma quello che è importantissimo è appunto questa libertà in questa dimensione si vede il bene ma si può ancora volendo scegliere il male a me questo discorso del regno intermedio che ti accoglie appena sei andato nell'altra dimensione dove sei accolto comunque con amore comunque con accettazione dove sei libero dove rivivi la tua vita dove incontri le persone care morte precedentemente dove ci sono luci colori eccetera ricorda moltissimo come ho accennato all'inizio le esperienze dei rianimati che oggi conosciamo infatti se ne conoscono delle migliaia io stesso ho fatto una vasta inchiesta su queste tematiche e quello che le persone raccontano di avere visto nell'altra dimensione quando ritornano perché sono persone che sono vengono recuperate dai medici e riportate nella vita assomiglia moltissimo a quello che 250 anni fa ha scritto Svedenborg che allora nessuno ipnotizzava qualcosa di questo genere nessuno l'aveva scritto nessuno l'aveva raccontato e quindi ci sarebbe questo soggiorno in questa zona intermedia dove l'anima si riposa dove l'anima recupera dove l'anima rivive quello che ha vissuto e dove prende le sue decisioni incontra persone cari eccetera a me questa grande somiglianza tra quello che Svedenborg scrisse tanti anni fa e quello che le persone raccontano adesso ha sempre fatto una impressione notevole c'è una questa coincidenza io diciamo che nelle mie ricerche in campo spirituale sono sempre andata proprio alla caccia a indagare cercando le concordanze perché non sono cose concrete sono cose spirituali sono cose sottili e quindi è importantissimo trovare delle concordanze indipendenti tra le varie narrazioni e e qui le ho trovate insomma e Svedenborg racconta appunto che c'è questo mondo che accoglie con benevolenza che consente il riposo dopo il trauma della morte perché indubbiamente spesso la morte è accompagnata da da traumi da sofferenze da tutto quello che possiamo immaginare e e dove si può scegliere dove si viene accolti e si può scegliere liberamente e la libertà di scegliere è data dice Svedenborg fino all'ultimo cioè lui parla di cielo inferno ma non parla di un inferno definitivo la pena eterna come tante volte si sente dire come a quale ci hanno abituato le descrizioni dantesche no ecco una delle cose bellissime che Svedenborg dice a proposito del mondo terreno e del mondo invece spirituale scrive cioè scrive cioè gli fu dettato lo raccontavo prima che Svedenborg non scriveva per iniziativa sua ma quello che lui scriveva gli veniva dettato lui sentiva come una voce che gli dettava e lo scriveva in maniera automatica senza partecipazione personale e lui dice questa frase bellissima che è sempre piaciuta molto la terra è il vivaio del mondo spirituale pensate che bella espressione è questa la terra è il vivaio del mondo spirituale cioè quello che facciamo qui sulla terra questo vale valore vale ancora adesso e varrà sempre è una sorta di preparazione al mondo spirituale quello che facciamo in qualunque condizione ci troviamo a vivere perché naturalmente ognuno nel posto dove il destino nostro signore la provvidenza l'ha collocato deve cercare di dare il meglio di se stesso non c'è condizione migliore o peggiore a livello di qualità tutto dipende da come viviamo quindi la persona umilissima può magari fare un'esperienza più ricca e completa di una persona che a noi sembra essere al top dei successi al top del prestigio umano dice la terra è il vivaio del mondo spirituale una volta lasciata la terra l'uomo raggiunge la sua vera destinazione dopo la morte l'uomo è più uomo di prima e più intensamente uomo quindi si sente tale e quale come quando era in vita e questo come dicevo prima lo dicono esattamente anche quelli che sono stati in punto di morte che si ritrovano come erano in terra però senza le sofferenze senza i dolori magari anche più vitali più più giovani e Svedemol continua ha un corpo spirituale cioè membra e sensi può pensare e vedere ha una memoria è uomo o donna perché anche lì il sesso ha una sua importanza l'aldilà di Svedemol possiamo continuare a dire è in realtà un aldilà molto concreto e anche in questo si ritrova quello che dicono i rianimati e se mi posso permettere anche quello che dicono le entità attraverso i medium di oggi conosciamo tantissime descrizioni ottenute attraverso la medianità moderna cioè dal partire da metà ottocento in avanti fino ad oggi sul riferimento all'aldilà perché questo dell'aldilà è una domanda che viene sempre posta purtroppo o per fortuna ci interessa tutti è una meta che ci unisce tutti una destinazione comune e quindi la domanda che cosa succede quando si muore è una domanda che è stata posta moltissimo e nei libri di Svedemol si trovano le prime descrizioni in assoluto su questo punto descrizioni che poi magari senza sapere uno dall'altro indipendentemente uno dall'altro si ritrovano molto molto simili in quello che raccontano le persone che sono state in punto di morte e rianimate dai medici e anche nelle descrizioni che i diversi medium hanno fatto appunto a proposito dell'aldilà e per esempio nel di Svedemol non c'è niente che faccia pensare a un aldilà statico questa è anche una delle cose che mi è piaciuta moltissimo un aldilà statico in fondo noi non abbiamo seguendo la nostra religione che ci dice di avere fede è un bellissimo discorso anche quello della nostra religione ci dice abbiate fede e saprete tutto quando sarete dall'altra parte quindi noi non riusciamo a immaginare un aldilà secondo i dettami della nostra religione abbiamo la certezza che ci sarà ma non come ecco attraverso questi scritti sappiamo qualche cosa di più e quindi l'aldilà di Svedemol non è un aldilà statico cioè fermo dove si sta fermi in riflessione in meditazione in ammirazione pregando che ne so io suonando uno strumento musicale quello di Svedemol è un aldilà dinamico dove si svolgono tantissime attività sulle quali però non è facile dare delle spiegazioni perché sono attività dicano ma lo dicono anche quelli che sono stati in punto di morte o le descrizioni attraverso i medium che non hanno molto in comune con le nostre sono attività sempre legate a una maggiore conoscenza di noi stessi maggiore conoscenza del cosmo maggiore conoscenza dell'universo e del progetto divino su di noi e sul destino della nostra coscienza quindi un aldilà dinamico seguendo questo dinamismo questo movimento questa volontà di evoluzione l'anima dice Svedemol si dirige volontariamente verso attività di bene oppure se ancora pervasa da sentimenti negativi verso attività negative anche influenzando eventualmente chi vive sulla terra però come dicevo prima la cosa importante è che Svedemol parla anche di inferni senza però le sofferenze di tipo fisico alle quali Dante c'è l'anima divina commedia quindi non il fuoco non l'acqua bollente non il ghiaccio non queste cose ma sofferenze di tipo spirituale e poi leggendo bene tra le righe anche dei testi di Svedemol si può trovare una interpretazione anche del discorso del purgatorio che purgatorio in realtà vuol dire purificazione uno status più che un luogo di purificazione e quando Svedemol racconta che l'anima trovandosi nell'altra dimensione ha questo periodo di riposo in questa zona di transizione prima di incamminarsi verso ulteriori destini per noi inimmaginabili è un periodo di purificazione che comprende in primo luogo la rivisitazione della vita sulla terra quello che abbiamo fatto quello che non abbiamo fatto che è anche un discorso molto importante quelli che io chiamo i peccati di omissione tutte le cose buone che avremmo potuto fare che non abbiamo fatto per pigrizia per ignoranza per egoismo per tanti motivi insomma e quindi questo può essere considerato una sorta di purgatorio se vogliamo interpretarlo così perché naturalmente rendersi conto di avere nella vita avuto atteggiamenti non non sempre lodevoli può portare naturalmente sofferenza e quindi questa sofferenza spirituale può essere considerata una sorta di purgatorio che ci attende dopo e quindi un modo per purificarci di quello che abbiamo fatto in maniera non perfetta e quindi comprenderlo e la comprensione significa già il superamento di questo significa anche il perdono perché comune a tutte queste visioni da Svede in avanti è il fatto che noi non siamo giudicati da un giudice il giudice siamo noi stessi perché giunti nell'altra dimensione ci sarebbe la capacità di giudicarci in maniera assolutamente oggettiva e non soggettiva come di solito facciamo sulla terra mi metto io per prima che quando dobbiamo valutare i nostri comportamenti abbiamo sempre un sacco di giustificazioni per noi stessi è stata colpa di quello l'assimo mi sono comportato in questo modo perché era un momento di fragilità perché qui per casa è un'infinità di motivazioni di giustificazioni invece dicano i rianimati dice Svedeborg dicano le altre testimonianze che conosciamo attraverso la medialità che la valutazione di quello che abbiamo compiuto sulla terra sarebbe completamente corretta e oggettiva e scevra da ogni egoismo da ogni personalismo da ogni tentativo di giustificazione immotivata e quindi ci sarebbe in questo periodo di ripensamento di riflessione che se vogliamo usare il termine purgatorio usiamolo pure per dire che ci purifichiamo non che veniamo puniti ma che ci purifichiamo di quello delle scorie che ci portiamo dietro dalla vita terrena dopodiché dice Svedeborg ci incamminiamo verso cammini che sono di bene di meno bene di male a seconda delle tendenze e c'è anche che finisce dice Svedeborg che noi potremmo con un termine per intenderci che tutti intendono definirlo inferno che non è però qualche cosa di definitivo è qualche cosa che permette fino alla fine di modificare l'atteggiamento e quindi di recuperare quindi c'è una visione straordinaria naturalmente in questa opera di purificazione abbiamo vicino le persone care precedentemente abbiamo vicino figure angeliche abbiamo vicino figure che faccio riferimento anche a un commento che è arrivato e che vedo adesso valutazione in assenza di ego esattamente proprio così ho cercato di dirlo prima in assenza di ego cioè non terremo più nessun conto del nostro ego terreno che è che ci giustifichiamo naturalmente l'ho fatto io l'avete certamente fatto voi continueremo a farlo e quindi è una cosa veramente interessante vedere tutte queste affermazioni naturalmente sto riferendo opinioni di Svedemburg che possono essere trovate in questo suo libro Cielo inferno che evidentemente è interessato molto perché da quando è uscito ha avuto diverse edizioni ed è stato tradotto praticamente in tutte le lingue che se ne possa pensare è un testo a mio giudizio di notevole interesse è segno di un'epoca segno di una personalità che ha avuto grandissimo prestigio pensate che Svedemburg morì a 84 anni in Inghilterra lui spesso andava in Inghilterra per pubblicare le sue opere perché l'Inghilterra era il paese della cultura all'epoca e per incontrare scienziati per incontrare personaggi e morì lì morì in Inghilterra e fu sepolto lì e poi all'inizio del novecento il re Gustavo di Svezia mandò in Inghilterra un brigantino appositamente per recuperare le spoglie di Svedemburg e portarle in patria con tutti gli onori e ora sono sepolte nel duomo di Uppsala che è la città universitaria di cultura della Svezia quindi un personaggio molto stimato personaggio ripeto che se ne può pensare quello che vuole però ci ha lasciato degli scritti delle testimonianze che certamente inducono a pensare certamente un discorso di grande spiritualità questo senz'altro è un discorso che avvicina moltissimo alla fede in un oltre ecco nella speranza che dopo di noi esista qualche cosa che dobbiamo in qualche modo meritarci adesso e anche dopo e questa è veramente la novità di Svedemburg secondo me che anche dopo continua il nostro cammino di purificazione e che quello che facciamo sulla terra possa avere un seguito dopo un prosieguo e questo renderebbe anche ragione forse di tante vite interrotte di tanti itinerari che vengono spezzati magari nel fiore degli anni quindi esperienze che possono continuare ad altro livello ma sempre e nella direzione dinamica nella direzione di muoversi verso il proprio perfezionamento verso la propria crescita e tutta la creazione sentire gli iniziati poi anche io lo sento dentro di me quindi lo sento profondamente vero tutta la creazione tende verso l'evoluzione e verso il perfezionamento perfezionamento che magari inizia sulla vita sulla terra e che può continuare certamente anche in una vita oltre in altre dimensioni con altri metri di valutazione e così via e quindi questo in grandissime linee quindi chi è interessato può occuparsi di Svedenberg lo può fare attraverso il suo stesso libro Cielo Inferno io mi sono limitata a tradurlo e a scrivere una prefazione raccontando brevemente la vita di Svedenberg perché ho sempre pensato che conoscere la vita degli autori è importante anche per valutare quello che scrivono oppure attraverso un medaglione che ho fatto su di lui su questo mio testo che si chiama I grandi iniziati del nostro tempo di cui Svedenberg è uno dei primi è il secondo forse che ho messo uno di quelli che mi ha maggiormente interessato quindi dopo ho voluto anche tradurre il suo libro Cielo Inferno che mi ha dato veramente tanti spunti certamente in qualche minuto qualche decina di minuti non è possibile raccontare questo libro che è di due o trecento pagine però qualche cosa credo di essere riuscita a dire proprio di questa trasformazione facendo una rapida sintesi di quest'uomo da scienziato rigolosissimo e apprezzatissimo in un essere spirituale in un veggente veggente affidabilissimo perché le veggenze che lui faceva avevano dei riscontri straordinari e immediati e poi in medium diciamo così mistico definito anche un mistico che scriveva quasi sotto dettatura di esseri spirituali queste opere che rientrando perché non sono state misconosciute dalla Chiesa sono state valutate anche valutate positivamente ha influito moltissimo per esempio su tanti autori che ben conosciamo ha fatto un grosso influsso per esempio su Goethe sul massimo scrittore tedesco Goethe ed era molto apprezzato anche da Jung da Carl Gustav Jung lo psichiatra psicologo Jung quindi un personaggio che è stato tenuto in attenta considerazione e ancora ricordo questa valutazione della poetessa inglese Elizabeth Barrett Browning che tutti certamente conoscono una delle maggiori poetesse del romanticismo inglese che conosceva bene Swedenborg che diceva a mio giudizio l'unica luce che abbiamo nell'aldilà sono gli scritti di Swedenborg poi naturalmente tutti questi scritti vanno letti filtrati dalla propria sensibilità e dalla propria capacità di percezione letti e riletti da un certo punto di vista perché molto spesso i discorsi di Swedenborg sono simbolici quindi procede per analogie e quindi chi volesse leggere consiglio anche questo di stare attenti alle analogie comunque da queste ho messo in guardia cioè ho avvisato di queste nella premessa che ho fatto a questo libro ecco io vi ringrazio credo che il mio tempo sia arrivato alla fine chiedo alla regia se è così mi resta il tempo di salutare se la regia mi manda un messaggino e mi dice quando il discorso può essere concluso perché secondo i miei tempi dovremmo essere alla fine se no se c'è qualche domanda molto volentieri qua c'è una domanda signora Giovetti sta parlando di un iniziato del passato e della sua esperienza certo sì un iniziato del passato che è vissuto nel settecento gli iniziati di cui parleremo nelle prossime nelle prossime puntate saranno un pochettino più vicini a noi qua c'è un messaggio di Anna Tamburini interessantissima nonostante la prossima lezione giovedì 21 maggio Patrizia dice leggere leggere aiuta ad aprire la mente questo è proprio vero è proprio vero questo sì è vero e leggere libri e leggere su internet però un bel libro fatto di carta secondo me è il massimo che si possa avere spero che a tutti che questo periodo di permanenza in casa di riflessione maggiore eccetera eccetera sia servito anche per fare delle buone letture che magari di solito non abbiamo tempo di fare io per esempio mi sono riletto i Promessi Sposi in questo periodo che non leggevo da anni e l'ho trovato stupendo grazie a tutti di questi messaggi che leggo qua vedo che il discorso è interessato e quindi vi ringrazio e ci sentiamo la prossima settimana con un'altra lezione su un altro iniziato vorrei parlare di Jakob Lorber che questo è un tedesco un austriaco anzi per l'esattezza anche un personaggio molto molto speciale che non è conosciutissimo in Italia grazie a tutti e arrivederci alla prossima puntata arrivederci alla prossima vedo che continuano ad arrivare messaggi quindi sono molto commossa veramente da questa partecipazione grazie mille ciao Anna ciao Enrico e ci sentiamo alla prossima devo chiudere fine grazie a tutti